Come si presenta al pubblico di Antena 2? Mi chiamo Fiorina Flora, lavoro come medico libero professionista in Alta Valle Seriana e mi interesso di politica da quando ero giovane. Negli ultimi anni sono stata consigliere provinciale, prima per il Collegio di Clusone, poi per il Collegio di Vertova, rivestendo anche l'incarico di vicepresidente della prima commissione territorio. Il gruppo che rappresento, uniti nel rinnovamento, è costituito da persone moderate, attente ai cambiamenti, alcune con esperienze amministrative, altre senza esperienza, dove la dialettica è confronto e mediazione, perché riteniamo che il nostro Paese non abbia bisogno di scontri, ma necessiti di coesione sociale. Vivere in montagna, lavorare in montagna, studiare in montagna, costa molto di più e l'Unione sicuramente fa la forza. E per quanto riguarda il programma? Allora, il nostro programma si sviluppa in diverse direzioni, partendo prima di tutto dalla necessità di recuperare risorse, attraverso un'attenta ricerca di fondi pubblici, una valorizzazione dell'energia elettrica con la costruzione di nuove centrali, una ottimizzazione delle risorse del patrimonio comunale, alpeggi, boschi, per cui punteremo alla certificazione, seguendo le linee dell'accordo di Chiotto, a una implementazione dei sistemi di telefonia con il posizionamento di ricevitori su aree comunali. È chiaro però che riteniamo importante anche l'ottimizzazione delle risorse. Per questo noi tenderemo a ridurre le spese attraverso l'unificazione dei servizi con gli altri comuni, a un miglioramento della raccolta dei rifiuti, a un risparmio energetico su riscaldamento e illuminazione pubblica, riducendo quella che è la dispersione termica. Perché fare un ricupero di risorse e un'ottimizzazione delle spese? Proprio perché riteniamo sia fondamentale avere più risorse per poter operare nei vari settori, in prima di tutti il settore sociale. I problemi dell'occupazione, i problemi delle crescenti difficoltà economiche delle nostre famiglie saranno sicuramente come primo argomento alla nostra attenzione. Per questo ci proponiamo di puntare uno sviluppo delle attività artigianali. Il PIP verrà realizzato concretamente. A incrementare e agevolare quelle che sono le attività di montagna, allevamenti particolari, culture di piccoli prodotti, recupero del territorio. A uno sviluppo del turismo, favorendo anche con agevolazione e riduzioni degli oneri, coloro che vorranno superare le carenze abitative e ricettive che abbiamo. Quindi a chi farà o aprirà un piccolo albergo, un piccolo stello, noi sicuramente verremo incontro e un obiettivo primario, riduzione di quella che è l'addizionale comunale dell'IRPEF. Altri settori importanti sono l'istruzione e la cultura e poi ovviamente quelli che sono le opere pubbliche. Per l'istruzione e la cultura abbiamo tantissime iniziative, ma soprattutto due. Sosterremo l'integrazione degli alunni portatori di handicap e renderemo il trasporto scolastico più agevole e meno gravoso per le famiglie.